All'annazzo? Spero che nessuno muoia, spero che si sopravviva e si riesca a rivincere le elezioni ricostituendo una coalizione che certo nel corso degli anni cambia negli equilibri, ma mantiene un progetto comune, se mantiene un progetto comune le condizioni ci sono, difficile e complicato, ma Salvini fa quello che deve fare e quindi ci candidiamo noi alla nuova leadership, la Lega si candida alla nuova leadership e quindi mi pare che si sta lavorando, se ci sono le condizioni lo faremo, se no ognuno per conto solo.